Eccoci qui, allora come dicevo prima sono felice di continuare questo percorso anche se ho la preoccupazione che di anno in anno possa crescere anche un po' eccessivamente l'abitudine a ritrovarvi qui e quindi magari forse non sono sempre la persona più adatta a darvi stimoli nuovi anche per poter rileggere il carisma del preziosissimo sangue. E non vengo qui né a insegnare qualcosa né a dire parole definitive ma semplicemente come un fratello vengo a condividere qualche riflessione che non è mia ma è presa dalla parola. In questi giorni mentre pregavo, riflettevo, riordinavo un po' le idee ho pensato a questo piccolo viaggio che faremo insieme questa mattina, questo percorso che sarà caratterizzato proprio dall'andare a guardare che cosa la parola ci suggerisce rispetto alla dinamica dell'ascolto in relazione al cuore. E come questa relazione e questo rapporto e questa riflessione possono avere una ricaduta concreta nella nostra prassi, nel nostro modo di esercitare l'evangelizzazione, di vivere la nostra esperienza cristiana e di prendere anche delle decisioni molto concrete. Viviamo in un tempo particolare della Chiesa in cui il Papa avendoci messo davanti il grande evento del Sinodo ha anche precisato che il Sinodo non è un tempo che inizia e finisce, non è semplicemente un evento ma è qualcosa che provoca la Chiesa a cambiare il suo atteggiamento, cioè è un processo, un percorso, un'educazione nuova a vivere la nostra esperienza ecclesiale. E certamente nella dinamica del Sinodo c'è proprio la caratteristica di imparare a stare insieme in maniera nuova, di riscoprire quella componente relazionale che è alla base anche dell'esperienza della Chiesa. Sono cose che sono sempre state all'interno del Vangelo, a volte ce ne dimentichiamo e abbiamo bisogno di tirarle nuovamente fuori. Bene, questa mattina vorrei iniziare capovolgendo il tema, cioè quando noi pensiamo all'ascolto ovviamente la prima cosa che ci viene da dire è che noi dobbiamo metterci in ascolto di chi? di Dio e che questa cosa può cambiare la nostra vita. È assolutamente vero, cioè è vero che se noi ci mettiamo in ascolto di Dio, Dio può cambiare la nostra vita, ma il punto di partenza non siamo noi, cioè il primo ascolto non è il nostro, il primo ascolto è l'ascolto di Dio nei nostri confronti. E sapete perché? Perché il gesto dell'ascolto è la maniera attraverso cui noi dichiariamo vivo l'altro. Quando tu ascolti qualcuno stai dicendo all'altro tu esisti. Quando tu ascolti la parola di una persona, una persona si sente considerata, si sente viva. Infatti quando tu vuoi uccidere qualcuno devi ignorarlo, non devi rivolgergli l'ascolto, la parola, l'attenzione, lo sguardo. Fare finta che uno non esiste significa non intercettarlo nella componente relazionale. Ad esempio non guardarlo negli occhi, non ascoltare le sue parole, non rivolgergli la parola. Quando noi tronchiamo gli alfabeti relazionali stiamo considerando l'altro morto. Molto spesso la gente vive nell'inferno di sentirsi solo, soli. E questa solitudine nasce dal fatto che nessuno spende del tempo relazionale con le persone. Il primo modo che ha Dio di entrare nella vita delle persone non è insegnandogli una morale o una dottrina su se stesso. Il primo modo che Dio ha di salvare la vita delle persone è dichiarandole vive, come? Mettendosi in ascolto di queste persone. C'è un brano molto bello, significativo, che si trova nell'Antico Testamento. Voi sapete che tutto l'Antico Testamento è attraversato da grandi storie, anche da piccole storie. Avrei voluto scegliere una piccola storia così anche da andare a spulciare qualche capitolo un po' più meno frequentato dell'Antico Testamento. Ma mi tornava spesso nel cuore, mentre preparavo questi appunti, un'espressione che si trova nel libro dell'Esodo. Siamo in un momento particolare di questo grande libro dell'Antico Testamento che, come dice la parola stessa, ci racconta l'Esodo del popolo di Israele che dall'Egitto si mette in viaggio verso la terra promessa. Il protagonista principale di questa storia, cioè il fulcro che Dio usa per operare questo cambiamento, è Mosè. La storia di Mosè è una storia molto difficile, complicata, e a un certo punto Mosè si ricostruisce una vita lontano dall'Egitto, avendola fatta franca da un omicidio che aveva compiuto, trova accoglienza presso un uomo che si chiama Ietro, sposa una delle figlie di Ietro, ha ricominciato la sua vita. Ma una mattina accade qualcosa di strano per lui, proprio mentre sta andando a pascolare il gregge di Ietro, rimane impressionato non da un fenomeno che era raro nel deserto, ma certamente la cosa che lo colpiva era come mai un cespuglio che aveva preso fuoco nel caldo del deserto bruciasse ma non consumasse. Voi sapete che in realtà è l'incontro con Dio, ci siamo già soffermati su questa immagine anche in passato, ma mi serviva tornare a questo episodio per un altro motivo, perché proprio in quel dialogo in cui Mosè incuriosito si avvicina davanti alla presenza del Signore, il Signore pronuncia una parola che secondo me è decisiva. Sentite. Il Signore disse, siamo al capitolo 3 del libro dell'Esodo, Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Jebuseo. Ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Ecco, questa prima parola che Dio rivolge a Mosè è una parola che nasce dall'ascolto, ho udito il grido del mio popolo. Vorrei che per un istante nel nostro immaginario tornassimo a una scena familiare che forse anche nelle nostre case abbiamo vissuto più e più volte. Quando nasce un bambino, l'unica maniera che ha un bambino di dire, dichiarare la sua esistenza è piangere e gridare. Il suo non è un discorso, non è una sorta di arringa in cui deve convincere la madre ad avvicinarsi al letto. Non usa la logica, la filosofia, la teologia. Usa semplicemente la sua voce. E soprattutto nel rapporto materno succede che una madre, anche dal pianto, capisce che cosa sta accadendo al figlio. Se c'ha qualche problema, l'amore di una madre riesce a interpretare ciò che il figlio stesso non riesce ad esprimere. In questo accorgersi di lui, in una fase in cui il bambino stesso non riesce a consapevolizzare il suo bisogno, è lì che avviene una sorta di salvezza. Avviene una relazione che gli salva e gli cambia la vita. Il grido corrisponde a una presenza. Ora, immaginate che ognuno di noi si porta nel cuore un grido, il grido della propria esistenza e con tutte le proprie forze noi cerchiamo di consapevolizzare quello che ci portiamo dentro. Magari siamo tristi, o siamo nella gioia, siamo in panico, oppure siamo angosciati, abbiamo grandi speranze, oppure siamo a corto di speranze. E interroghiamo noi stessi perché viviamo in questa situazione, perché proviamo questo, perché ci troviamo in questo momento particolare della nostra vita. Passando il tempo, non riuscendo a capire fino in fondo che cos'è che stiamo vivendo, ci sentiamo incompresi. E in questa incomprensione cresce in noi il sentimento dell'assenza. Cioè, quando una persona non si sente capita, si sente molto sola. Allora, chi è Dio? È colui che ascolta il mio grido e non ha bisogno che io gli spiego ciò che io stesso non riesco a spiegare, perché lui sa di che cosa io ho bisogno. L'esperienza di fede è l'esperienza di poter tornare a pregare non perché dobbiamo rivolgere a Dio cose chiare, ma perché dobbiamo rivolgere a Dio quello che siamo in questo momento della nostra storia. Il povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce, dice un salmo. Allora, voi comprendete quindi che l'esperienza di fede, cioè il primo modo attraverso cui noi sperimentiamo la redenzione, è che qualcuno raccoglie il grido della nostra voce, il grido della nostra esperienza. Ora, Dio non è astratto, Dio non è qualcosa che è nascosto semplicemente nel nostro subconscio, nella nostra fantasia o dall'altra parte delle nuvole. La concretezza di Dio, cioè il modo che ha Dio di intercettare il grido dell'uomo, della sofferenza dell'uomo, ha la consistenza della Chiesa. La Chiesa è il modo attraverso cui il Signore continua a operare nello spazio e nel tempo, cioè attraverso di noi. E quindi una Chiesa che vuole essere autenticamente il prolungamento della presenza di Dio deve essere una Chiesa capace di ascoltare il grido delle persone, di saper accogliere quello che le persone stanno vivendo in quel momento della loro vita. Prima ancora di riuscire a catalogare, a giudicare, a mettere ordine, a indirizzare, la prima cosa è poter offrire la gratuità dell'ascolto. Ho trovato qualcuno che mi ascolta. Da preti molto spesso noi facciamo questo tipo di esperienza. Quello intenso e compendio che Don Terenzio ci ha regalato in questi suoi 25 anni di sacerdozio in cui racconta anche un po' la sua esperienza sacerdotale emerge in maniera forte questa dinamica relazionale. C'è qualcosa, un sotteso a tutte le esperienze anche pastorali, relazionali che caratterizzano un prete. Molto spesso ciò che un prete è chiamato a fare è qualcosa che agli occhi del mondo è assolutamente inutile perché è assolutamente gratuito. Cioè noi non siamo chiamati innanzitutto a risolvere una questione ma a esserci nella vita delle persone per poter intercettare nelle persone il grido che si portano dentro che si portano nel proprio cuore. Ma questo non è vero soltanto per un sacerdote è vero per ogni battezzato. Un cristiano che vive il suo battesimo il proprio sacerdozio battesimale si accorge che per poter essere davvero cristiano deve poter imparare questa dinamica che ci ha insegnato Dio e di cui tutta la Sacra Scrittura è piena. Ho voluto scegliere questo brano dell'Antico Testamento per dire che se c'è un momento di rivoluzione nel popolo di Israele non viene dal fatto che Dio fa qualcosa per il popolo di Israele lo prende dall'Egitto lo tira fuori da quella terra lo fa passare attraverso il Mar Rosso lo conduce nella terra promessa c'è un gesto preventivo Dio ha ascoltato il grido di oppressione di questa gente cioè c'è qualcuno che si è accorto che io sto male se noi dovessimo andare al Nuovo Testamento dovremmo dire che questa scena di un Dio che raccoglie la tragedia di una persona la tragedia di un popolo la ritroviamo tale e quale nelle nozze di Cana Maria è l'unica Maria che è immagine della Chiesa tra l'altro è l'unica che intercetta la tragedia che c'è in quella festa non hanno più vino intercetta quello che gli altri ancora non consapevolizzano cioè Maria ha la capacità di vedere oltre di vedere oltre il ragionamento di vedere oltre l'analisi di vedere oltre la superficie ecco questa capacità di leggere dentro questa capacità di accorgersi di ciò che non è immediato dovrebbe essere una sensibilità che la Chiesa deve continuare a coltivare e far emergere sempre con più forza a questo proposito vorrei riportarvi un altro brano del Vangelo che ci fa capire subito qual è l'atteggiamento che Gesù stesso ha rispetto alla dinamica dell'ascolto l'ascolto che guarisce il cuore l'ascolto che permette alle persone di cominciare a sperimentare la redenzione e il brano che vorrei portarvi si trova al capitolo 5 del Vangelo di Giovanni ed è uno dei brani più famosi perché è il brano della guarigione del paralitico ora noi possiamo costruire una grande teologia su questo brano Giovanni quando racconta le storie le racconta sempre con una simbologia con una profondità che non è mai semplicemente ti racconto una storia non è mai semplicemente ti riporto un evento che è accaduto Giovanni ci riporta sempre qualcosa di più grande qualcosa di più profondo ma io vorrei che per un istante ognuno di noi si fermasse davanti a un atteggiamento che viene raccontato in questo brano del Vangelo sentite dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme a Gerusalemme presso la porta delle pecore vi è una piscina chiamata in ebraico bestata con cinque portici sotto i quali giaceva un grande numero di infermi ciechi zoppi e paralitici si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato Gesù vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così gli disse vuoi guarire? vi siete mai domandati perché Gesù non lo guarisce e basta perché rivolge la parola a questa persona perché Gesù comincia un dialogo con questa persona e come mai questa persona noi ci accorgiamo ha bisogno di parlare perché la prima cosa che quest'uomo condivide con Gesù non è tanto il desiderio di guarigione ma è l'amarezza del momento che sta vivendo della solitudine che ha accumulato in 38 anni finalmente quest'uomo si trova davanti a un grande miracolo che non è semplicemente un uomo che lo sta per rimettere in piedi ma qualcuno che gli sta dicendo mi interessa quello che provi mi interessa quello che stai vivendo dentro la tua vita vuoi guarire? gli rispose il malato signore non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita mentre infatti sto per andarvi un altro scende prima di me il brano si conclude in questo modo che Gesù gli comanda alzati prendi la tua barella e cammina e all'istante quell'uomo guarì prese la sua barella e cominciò a camminare tutti rimaniamo sempre impressionati da questa fine del discorso ma proviamo a rallentare questo dialogo capite in che cosa consiste l'ascolto vuoi guarire? e quest'uomo dice signore io non ho nessuno voi non immaginate quanta gente è convinta di questo di non avere nessuno quanta gente vive questa solitudine di non avere nessuno con cui condividere nessuno che la capisce che la comprende nessuno che gli vuole bene il sentire di non avere nessuno e il poterlo dire è l'inizio di una guarigione l'esperienza di fede è l'esperienza di tirar fuori questa radicale solitudine che ci portiamo dentro quando tu guardate che sto per usare un termine volutamente perdi tempo con una persona perché il mondo ci fa apparire l'ascolto come perdere tempo con qualcuno non è investire è perdere quando tu perdi tempo con una persona permetti a questa persona di poter tirare fuori questa radicale solitudine che l'abita e quando una persona finalmente può tirar fuori questa solitudine che l'abita lì comincia l'esperienza dell'amore di Dio a volte noi siamo una chiesa che dà le istruzioni per l'uso una chiesa che dice davanti a questa circostanza devi comportarti così se stai vivendo questa cosa allora devi fare quest'altro guardate le cose giuste una persona le sa anche col buon senso non c'è bisogno che gliele insegniamo noi molto spesso la gente non ha bisogno della risposta giusta ha bisogno che qualcuno l'ascolti nei propri drammi nelle proprie domande nel proprio struggimento nella propria solitudine noi ci affrettiamo subito a dare la risposta ma il miracolo più grande è il silenzio di poter ascoltare le domande delle persone per questo la stragrande maggioranza dell'opera pastorale di una persona avviene con una predicazione che è fatta dal silenzio ma il silenzio dell'ascolto molti missionari molte persone che vivono questa esperienza delle missioni popolari sanno quanto importante durante quel momento non soltanto la questione delle catechesi dell'adorazione organizzata dell'evento di una via crucis eccetera ma quello che suscita nelle persone che a un certo punto sentono un impellente bisogno di raccontare cioè l'incontro con Cristo li spinge a tirar fuori qualcosa e guai se quel missionario che ha suscitato quel bisogno non fosse disponibile ad accogliere quel racconto a che cosa serve suscitare in una persona il desiderio di tirar fuori quando non c'è nessuno che possa raccogliere questo desiderio che possa raccogliere questo ascolto è una critica generale che attraversa tutta la chiesa attraversa il ministero attraversa la missione attraversa le nostre scelte semplicemente perché siamo abituati a vivere un'esperienza umana ecclesiale pastorale tutta incentrata sul fare ma c'è una cosa che manca dice Gesù a Marta e che Maria invece ha colto ed è la parte migliore Maria ascolta mentre Marta fa allora l'ascolto di Maria non è tanto soltanto l'ascolto contemplativo e tutto quello che poi nei secoli ci abbiamo costruito su questo ma è la capacità di capire che c'è una cosa che supera le nostre azioni ed è la capacità di stare davanti alle persone in questo momento mi colpisce molto nella storia di tanti santi o di grandi personaggi ancora vivi e che qualcuno che ha potuto raccontare l'incontro con queste persone ha sentito dire da queste persone in realtà mi ascoltava come se non avesse nient'altro da fare se non ascoltare me come se non ci fosse nient'altro al mondo se non me mi piacerebbe tanto poter dire che io faccio parte della fila di queste persone io vivo con un orologio un'agenda e a volte cerco di incastrare tante cose ma mi accorgo però che ciò che rimane più impresso in una persona ciò che fa più la redenzione nel cuore di una persona è potersi trovare davanti a qualcuno che gratuitamente è come se fosse per te senza un tempo uno schema una costrizione dandoti modo di venire fuori un po' alla volta di poter raccontare in questo racconto del paralitico il miracolo tutti noi siamo abituati a dire il miracolo è Gesù che rimette in piedi quest'uomo no il vero miracolo è Gesù che dà l'opportunità a un uomo che è paralizzato da 38 anni di poter dire a qualcuno la sofferenza che prova di poterlo dire a qualcuno non ho nessuno ecco già il poter dire a qualcuno non ho nessuno è già un esorcismo alla tua solitudine perché è paradossale finché non hai qualcuno a cui poter dire non ho nessuno sei veramente solo ma quando hai una persona a cui puoi dire non ho nessuno non sei già più solo perché puoi dirlo a qualcuno la preghiera è questo è scoprire che noi non siamo più soli perché la nostra solitudine la possiamo raccontare a qualcuno non è forse di partenza vero di un cambiamento che stravolge le persone nell'intimo secondo aspetto ecco se il primo aspetto è permettere all'altro di esistere attraverso l'esperienza dell'ascolto la gratuità dell'ascolto il secondo aspetto è che il nostro ascolto per poter essere tramite sacramento di salvezza per poter essere mediazione dell'opera redentiva di Dio cioè possa far arrivare nel cuore delle persone una guarigione noi dobbiamo ricordarci che il primo atteggiamento dell'ascolto deve essere non giudicante una persona si sente redenta quando si trova davanti a qualcuno che non giudica quello che gli stai raccontando guardate che può sembrare una cosa scontata non è una tecnica ma è il modo con cui Gesù ci ha insegnato a stare davanti alle persone adesso approfondirò un po' questo aspetto e cercherò di spiegare perché è importante per noi capire che l'esperienza dell'ascolto che ci guarisce è trovarci davanti a qualcuno che non ci giudica rimaniamo nel Vangelo di Giovanni e questa volta ci rivolgiamo a una storia anch'essa famosissima che è l'incontro di Gesù con la Samaritana siamo al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni e in questo dialogo e se ve lo andate a rileggere tutto è una pagina molto lunga molto bella del Vangelo di Giovanni la cosa che colpisce è che Gesù con questa donna parlano ma tutto il loro dialogo è attraversato da una serie di fraintendimenti cioè questa donna va lì Gesù domanda qualcosa ma in realtà ne pensava un'altra questa donna ne capisce un'altra ancora insomma è come se sono una serie di ambiguità e di fraintendimenti in questo dialogo penso che Giovanni non soltanto ci sta mostrando tutta quella quella natura teologica che c'è in quel dialogo ma forse voglia suggerire a ciascuno di noi che non ci si capisce subito ma un po' alla volta e anche nell'esperienza di fede nella preghiera nel rapporto con Cristo prima di capire fino in fondo che cosa il Signore ci sta dicendo abbiamo bisogno di tempo certe volte non lo capiamo fraintendiamo quello che il Signore sta dicendo a ciascuno di noi ma il punto su cui vorrei che ciascuno di noi si focalizzasse è il punto in cui Gesù d'amblè dopo che ha fatto un discorso molto bello sull'acqua viva il pozzo chi viene qui non ha più sete io l'acqua gli posso dare diventerà sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna a un certo punto Gesù dice a questa donna vami a chiamare tuo marito e questa donna dice io non ho marito e Gesù dice dici bene che non hai marito perché ne hai avuti cinque voi la potremmo dire ne hai avuti dieci quindici venti il problema non è il numero e quello che hai dice non è neanche tuo marito sapete perché a me colpisce questa cosa perché Gesù è l'unico nel Vangelo che riesce a dire la verità alle persone senza umiliarle cioè riesce a condurre le persone a fare verità su se stesse sulla propria storia senza sentirsi giudicati guardate che è una cosa molto importante perché uno degli alfabeti su cui il male opera di più nelle persone è proprio il pudore e la vergogna di dire la verità e quando una persona non si senta proprio agio di dire la verità di ciò che sta vivendo allora lì il male sguazza è molto spesso uno dei punti di appoggio attraverso cui il male costantemente continua a tenere il tappo il muro nel non farci dire la verità delle cose sta nel fatto che nello sguardo di chi hai davanti nell'atteggiamento persino nella postura del corpo che uno ha davanti già quando stai cominciando a dire qualcosa già comincia a irrigidirti e dice no non glielo posso dire non glielo posso dire quello che mi porto dentro chissà se il nostro ascolto è così se il nostro ascolto è giudicante oppure il nostro ascolto è un ascolto non giudicante se una persona che incontriamo attenzione non soltanto può consegnarci la propria sofferenza ecco il secondo punto ma può consegnarci la verità di se stesso la verità una persona si sente sola quando non può condividere il dolore con qualcuno una persona si sente sola quando non può condividere la verità con qualcuno ecco sappiate questo che nella vita non esistono migliaia di persone a cui si può dire la verità di noi stessi ma almeno uno due tre sì e in miliardi di abitanti del mondo nessuno dica ah io non posso dirlo a nessuno la svolta della redenzione cioè la guarigione del cuore parte dal fatto che a un certo punto tu senta un formidabile forte desiderio di fare verità su te stesso e questa cosa tu puoi viverla quando ti trovi davanti a qualcuno che ti ascolta senza giudizio e quindi ti permette di emergere nella verità di te stesso una delle cose su cui criticano moltissimo Papa Francesco è esattamente questo e lo stile di chiesa e anche alcune indicazioni pastorali che egli ci dà si muovono su quest'onda ma non è un'invenzione o una originalità sua questa è una cosa che noi ritroviamo tale e quale nel Vangelo è uno degli atteggiamenti di Gesù cioè prima ancora di poter aiutare una persona a vivere una conversione non io a convertirlo perché nessuno di noi può convertire nessuno non io a cambiarlo non io a salvarlo non io a rispondere alla domanda prima che accada qualcosa che abbia a che fare con la grazia di Dio che agisce nel cuore delle persone la maniera propedeutica che ha la grazia di Dio di preparare questo cambiamento e questo incontro è trovare qualcuno che serenamente accoglie la verità della mia vita e ricordatevi questo che quando tu puoi dire tutto a qualcuno non esiste intimità più profonda di poter dire la verità di noi stessi a qualcuno il mondo ci dice che la verità di noi stessi è quando noi condividiamo l'intimità sessuale fisica ma guardate una persona può anche arrivare a un'intimità fisica sessuale è avere di fronte un estraneo la vera intimità nasce dalla verità quando tu vuoi costruire un rapporto profondo su una persona la vera condivisione è della verità di te stesso perché quando una persona condivide la verità di se stesso si espone in maniera vulnerabile e ha paura che l'altro possa giudicarlo fargli del male molto spesso questa paura nasce da storie che abbiamo già vissuto esperienze che hanno segnato un po' la nostra vita e il vero problema è il fatto che noi attribuiamo agli altri un giudizio che in realtà abbiamo noi con noi stessi cioè significa che i primi a giudicarci siamo noi per questo vediamo tutti che ci giudicano allora un ascolto vero un ascolto che guarisce il cuore è disarmare disarmare questa convinzione disarmare questo pregiudizio ci vuole una delicatezza estrema è davvero l'arte dell'ascolto è la capacità di accostarsi alle persone esattamente come Mosè si accosta al roveto ardente Dio gli dice togliti i calzari perché ti trovi in un territorio sacro ti trovi alla presenza del Signore vedete fratelli quando ci troviamo davanti alla storia delle persone noi ci troviamo in un territorio sacro in cui bisogna togliersi le scarpe e capire che è come se stessimo camminando su un presbiterio è sacro quel posto dice ma è pieno di storie e di ferite e di peccati e di cose non siamo nessuno per arrivare a catalogare la vita delle persone innanzitutto dobbiamo riconoscere la grandezza della vita di una persona ammettendo che l'altro è innanzitutto abitato dal Signore e io devo poter ascoltare l'altro senza nessun giudizio se il primo punto è permettere alla sofferenza di una persona di poter essere raccontata il secondo punto è a permettere alla verità di una persona di essere condivisa su questo aspetto vorrei soffermarmi su un'altra caratteristica molto importante proprio sulla verità sapete qual è questa caratteristica inevitabilmente nessuno di noi è una tabula rasa cioè quando io parlo con qualcuno porto che cosa le mie convinzioni la mia educazione quello che ho studiato quello che ho pregato quello che ho vissuto eccetera quindi ognuno di noi si porta sempre un bagaglio di pregiudizi ma a volte i pregiudizi sono un problema perché i pregiudizi non ci aiutano a incontrare l'altro a volte i pregiudizi limitano l'incontro con l'altro perché noi abbiamo già stabilito chi è l'altro se io incontro una persona lo vedo vestito in un certo modo e dico è un drogato capite che quel pregiudizio di dire è un drogato ha già inficiato il mio ascolto di questa persona se io dico quello è così quello è di quell'altra di quell'altro partito quello è del gruppo di tizio di caglio di sempronio questo è un progressista questo è un tradizionalista quello è del gruppo mio quello è dell'altro quello è un ateo quello è un vicino è un lontano è a favore di questo è contro quest'altro i nostri pregiudizi molto spesso eliminano la possibilità dell'ascolto perché si sostituiscono all'altro noi prendiamo le nostre convinzioni e le facciamo indossare agli altri i pregiudizi sono terribili allora capite che un cristiano è una chiesa che ascolta è un cristiano è una chiesa che combattono costantemente la tentazione del pregiudizio e qui c'è una storia meravigliosa raccontata negli atti degli apostoli che ci fa comprendere che cosa significa convertirsi dai pregiudizi questa storia la troviamo al capitolo 10 degli atti degli apostoli e ve la faccio breve perché non posso leggervi tutto il brano ma la cosa che colpisce è che un pio israelita è stato educato fin da bambino a riconoscere ciò che fa parte del popolo di Israele e ciò che è fuori dal popolo di Israele ad esempio c'è un'educazione fin da bambini a un'antipatia di fondo nei confronti dei samaritani i samaritani sono antipatici a prescindere ok i samaritani no ok è come se uno è cresciuto con la fede nella Roma dice laziale no o il contrario no ok non sto prendendo posizione non sto prendendo questo tipo di pregiudizio attenzione questo tipo di pregiudizio non ci permette a volte di incontrare l'altro dove si manifesta la santità attenzione è stupido pensare che una persona è santa perché dice no io non ho nessun pregiudizio tutti abbiamo dei pregiudizi la santità si manifesta nella capacità di saperci convertire dai nostri pregiudizi allora Pietro che è cresciuto in una certa mentalità è stato educato ad esempio a pensare ai pagani come le persone impure che non bisogna frequentare non bisogna entrare in casa dei pagani perché i pagani sono gli altri quelli che possono contaminare la mia fede quelli che sono portatori di che cosa dell'idolatria quelli che possono allontanarmi dal rapporto con Dio questa educazione alla distanza fa sì che tu ti chiuda che non veda nessun altro ma Pietro a un certo punto per una serie di motivi che se volete potete leggervi nel capitolo 10 degli atti degli apostoli viene portato a incontrare una famiglia di pagani e non soltanto a incontrare una famiglia di pagani ma viene quasi spinto a entrare in casa di questi pagani immaginate l'imbarazzo e la rottura del pregiudizio che Pietro deve fare ma quando si mette ad ascoltare la storia di queste persone quando il centurione Cornelio gli racconta la sua vita spirituale la visione che aveva avuto quell'intuizione eccetera eccetera a un certo punto Pietro dice una cosa veramente molto interessante la vado a riprendere qui entrato in casa Cornelio gli racconta la sua storia e Pietro ecco la conversione da un pregiudizio afferma questo in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone ma accoglie chiunque lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga uno che è cresciuto con la convinzione che noi soltanto siamo quelli giusti e gli altri sono tutti brutti cattivi e impuri affermare una cosa simile significa che questo ma ha spappolato il suo pregiudizio cioè l'incontro reale con le persone amici deve distruggere i nostri pregiudizi un ascolto che fa passare la redenzione non è semplicemente un incontro che guarisce il cuore di chi ascoltiamo ma è un incontro che distrugge i nostri pregiudizi allora come posso io dire quello no come posso io escludere qualcuno come posso dire io sicuramente in questa parte c'è del bene e lì c'è il male se uno leggesse con lealtà il Vangelo si accorgerebbe una cosa che ripeto spesso che le più belle professioni di fede nel Vangelo le fa il demonio ora come possiamo negare che quando il demonio dice io so chi tu sei tu sei il santo di Dio ha fatto una professione di fede è vero quello che ha detto il demonio poi è incapace di trasformare la fede in carità e siamo d'accordo ma ha detto una cosa vera noi siamo capaci di venire meno i nostri pregiudizi no e sapete perché perché i nostri pregiudizi ci rassicurano le nostre rassicurazioni ci fanno cercare e chiudere in gruppi in cui il pregiudizio si conferma e più la pensiamo allo stesso modo con quel pregiudizio più ci sentiamo forti ma voglio dirvi che in realtà più siamo così uniti più siamo ghetto più siamo chiusi più non stiamo propagando il Vangelo ma stiamo diventando la controtestimonianza del Vangelo quando noi sentiamo il Papa che ci invita ad essere una chiesa in uscita non è uno slogan è ad esempio l'atteggiamento di distruggere un pregiudizio e di poter dire in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone ma accoglie chi lo teme pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga come posso dire io sono meglio di una prostituta che si trova su una strada secondaria delle nostre città non la conosco la storia di questa persona io non so che cosa è successo nella sua vita come posso catalogare una persona chiuderla in un'etichetta non mettermi in un atteggiamento di accoglienza semplicemente perché perché ho stabilito che siccome fa quello allora è questo è importante non soltanto condividere il proprio dolore la verità di noi stessi ma ecco la terza caratteristica l'ascolto che guarisce è un ascolto che ci converte dai nostri pregiudizi sulla realtà è impossibile non avere pregiudizi ma noi dobbiamo coltivare una docilità a essere messi in discussione nei nostri pregiudizi arriviamo finalmente a un momento importante dell'ascolto noi allora siamo partiti da ti ascolto e ti dichiaro vivo comincio a rompere la solitudine del tuo cuore la guarigione comincia quando tu non ti senti più solo perché il tuo dolore è ascoltato perché tu puoi far verità su te stesso e dirlo a qualcuno perché io vengo convertito dai miei pregiudizi ma attenzione arriva un momento nell'ascolto in cui bisogna abbandonare la neutralità cioè se inizialmente per poter far sentire l'altro accolto noi abbiamo un ascolto non giudicante e quindi neutrale a un certo punto bisogna abbandonare la neutralità perché cosa attenzione solitamente per convincere l'altro che io ho ragione e che quindi tutti vengono poi dalla mia parte no un cristiano che attua l'ascolto come guarigione del cuore comprende che si abbandona la neutralità per il discernimento della volontà di Dio quindi io abbandono la neutralità ma semplicemente perché voglio sapere che cosa il Signore mi sta dicendo meglio ancora che cosa il Signore ci sta dicendo qualche mese fa Papa Francesco ha tenuto una lezione bellissima sulla teologia fondamentale del sacerdozio in un simposio mondiale che vedeva tante componenti insieme e ha detto che la vita di un sacerdote deve poggiare su quattro vicinanze su quattro colonne le intese lui la vicinanza a Dio la vicinanza al vescovo ai superiori la vicinanza ai fratelli la vicinanza al popolo ma una cosa che ha colpito molto soprattutto quando parlava del rapporto con i superiori con il Vangelo ha detto noi abbiamo un'idea sbagliata di obbedienza noi pensiamo che l'obbedienza sia uno comanda e l'altro esegue questa noi pensiamo sia l'obbedienza dice il Papa no l'obbedienza cristiana è un'altra cosa l'obbedienza cristiana è obbedienza alla volontà di Dio attenzione non dite subito bravo perché non sapete che cosa sto per dirvi questa volontà di Dio uno potrebbe dire è semplice la so io e quindi tu ah dice il Papa la volontà di Dio si manifesta non come proprietà del singolo dice ma in un legame cioè se io e te siamo in comunione nella relazione tra me e te io e te capiamo la volontà di Dio non uno la capisce e l'altro la esegue non so se vi ho mai raccontato ma questa è una storia vera di un mio confratello vado al vescovo e dice eccellenza ho riflettuto lungamente mi sono confrontato con la mia guida spirituale ho fatto adorazione eucaristica il Signore mi ha detto che devo cambiare parrocchia e il vescovo senza scomporsi fa ma lo sai che anch'io ho pregato mi sono confrontato così è il Signore a me ha detto no come facciamo a sapere adesso qual è la volontà di Dio allora o il Signore è bipolare o c'è qualcosa che noi molto spesso questa storia me la vedo io e Dio no ognuno si tira l'acqua al mulino proprio quindi un superiore ah io sono il detentore della volontà di Dio o l'altro dice ah io ho la mia coscienza ho pregato io ho fatto io no dice il Papa è in un legame che si manifesta la volontà di Dio cioè è sempre l'incontro di due persone che fa sì che possa emergere la volontà di Dio capite allora qual è il ruolo della guida spirituale il ruolo della guida spirituale non è il ruolo di un ascolto significativo lo voglio chiamare in questo modo perché certe volte noi non abbiamo una vera e propria guida spirituale ma abbiamo qualcuno che solitamente ci ascolta in maniera profonda ok in cui noi riusciamo ad aprire il cuore a condividere delle cose eccetera non è io vengo da te perché tu sai la risposta io vengo da te e neanche tu sai la risposta è insieme che a un certo punto ci domandiamo che cosa il Signore ci sta dicendo e quindi è un percorso è un cammino è un modo attraverso cui noi scopriamo la volontà di Dio un po' alla volta in un legame ecco se tu non hai una relazione significativa così nella vita non hai opportunità di fare discernimento il discernimento non si poggia sull'intelligenza delle persone il discernimento non si poggia sull'eroismo del singolo il discernimento non si poggia sulla solitudine e l'ascolto solipsistico di una persona il discernimento si poggia sempre su una relazione significativa e quanto più una relazione significativa è data dalla Chiesa cioè stabilita oggettivamente da quello che la Chiesa ha fatto più è garanzia di essere volontà di Dio ma non perché uno lo sa e l'altro no ma perché queste entrambe ignoranze si incontrano ma si mettono in un percorso di discernimento di ascolto della volontà di Dio quindi l'andare in maniera oracolare da qualcuno a dire dimmi che cosa devo fare non è l'ascolto vero che ci salva la vita non è trovarti in un dialogo che ti può guarire il cuore chi ti vuole davvero bene quasi mai risponde alle domande perché ti mette sempre in un atteggiamento di discernimento qualche giorno fa il Papa ha rilasciato un'intervista molto bella e a un certo punto la giornalista ha detto al Papa in maniera provocatoria Santità che cosa direbbe Bergoglio di Papa Francesco cioè tu che guardi i testi molto bella come domanda il Papa ha risposto prima scherzando un po' su questa cosa dicendo sicuramente non ci avrebbe mai pensato non avrebbe mai immaginato che potesse succedere una cosa simile un impegno simile eccetera poi dice una cosa che secondo me è di una sincerità e di un'umiltà straordinaria dice io mi sono accorto di essere cresciuto da una cosa molto semplice dal fatto di essermi convinto che la paternità consiste essenzialmente in una cosa ha detto il Papa che ho appreso da una canzone napoletana non saprei citarvela ma il Papa ha detto così quindi è magistero autentico l'ha detto lui ok ha detto un vero padre conosce la risposta ma fa finta di non saperla perché deve arrivarci il figlio dice voler bene a volte è avere la pazienza di portare l'altro ad arrivarci lui anche se tu lo sai già da prima dice quando ero gesuita stato per tanto tempo superiore nella sua provincia ero molto duro dice non avevo questa pazienza col tempo ho imparato che esercitare un'autorità esercitare una paternità significa avere pazienza nel dire io intuisco già ma dobbiamo arrivarci insieme devi arrivarci anche tu insieme con me questo credo che sia una delle delicatezze più belle cioè persino in un dialogo quando tu capisci che chiaramente il signore sta andando per una direzione mai essere più veloce della persona che sta in discernimento bisogna portare quella persona ad arrivarci un po' alla volta ancora una volta amici bisogna saper perdere tempo con le persone questo guarisce il cuore se fare la volontà di Dio significa eseguire il comando di un altro noi non stiamo crescendo come figli di Dio ma come pedine capite come soldatini ma non come figli di Dio i figli sono quelli che esercitano il sacramento dell'amicizia vero Gesù nel Vangelo di Giovanni a un certo punto dice voi non siete più servi io vi ho chiamato amici perché tutto quello che ho udito dal padre mio ve l'ho fatto conoscere a voi invece quando uno vuole comandare sapete cosa fa non dice ti dice le cose semplicemente quando serve è per farti fare quello che vuole ma quando uno condivide tutto quando uno fa luce su tutto ti sta trattando con amicizia non vi chiamo più servi ma amici perché tutto quello che ho udito dal padre mio l'ho fatto conoscere a voi ecco credo che questa sia una cosa molto importante e qualcuno di voi potrebbe domandarvi mi anticipo da solo la domanda dove una persona impara a lasciare la neutralità per entrare nel discernimento perché tutti gli atteggiamenti di prima noi li impariamo da Gesù tenendo lo sguardo fisso su Gesù noi impariamo che Gesù ragiona in questo modo che Gesù fa le cose in questo modo ma questo tipo di abbandono della neutralità per entrare nel discernimento dove lo impariamo noi lo impariamo attraverso l'alexio divina perché se tu questa cosa la sai fare con una pagina del Vangelo la sai fare con la vita delle persone se tu non sai rapportarti in maniera sana con la parola di Dio se non hai una fiducia e una e una sorta di dimestichezza di consuetudine di familiarità con la parola di Dio tu non riesci a farlo nemmeno con la vita delle persone perché se tu leggi un brano e dici ah questo brano lo leggo così ma in realtà significa in maniera profonda questo e questa cosa il Signore ha una ricaduta dentro la mia vita in questo e in quest'altro modo se tu lo sai fare con un racconto del Vangelo lo sai fare con un racconto della vita di una persona la mancanza di educazione alla parola inibisce in ognuno di noi la mancanza di educazione all'ascolto autentico delle persone quindi quando qualcuno dice perché dovremmo fare l'exio divina uno può dire ma noi non siamo monaci non è che dovremmo fare queste cose è essenziale a vivere il rapporto con la parola di Dio perché più tu ti rapporti con la parola più le tue relazioni diventano profonde concrete perché la parola informa ed educa è una bella domanda nel carisma del preziosissimo sangue che ruolo ha la parola di Dio ha semplicemente un ruolo strumentale cioè ci prendiamo ci prendiamo quelle 4-5 frasi che toccano il cuore delle persone o che facciamo pescare in un cestino e le diamo così da suscitare qualche qualche reazione nella gente oppure è educazione alla quotidianità della parola alla normalità a rompere il tabù della Bibbia la gente ha il tabù della Bibbia pensa di non capirla pensa che è troppo alta che invece bisogna sdoganare la parola bisogna renderla possibile nella vita delle persone anche quando le persone la fraintendono perché pure la samaritana fraintendeva Gesù ma alla fine lo capisce è un cammino è un percorso l'unica cosa che ci fa abbandonare la neutralità per entrare nel discernimento è l'alexio divina ecco diceva Don Giacomo che stiamo facendo un percorso in questi anni abbiamo parlato di tante cose dell'eucaristia io penso che noi dobbiamo arrivare adesso a un punto importante che rapporto abbiamo con la parola e in che modo possiamo educare la parola nella quotidianità nella ferialità nella vita semplice quotidiana delle persone questo favorirà tremendamente tremendamente l'ascolto ecco mi avvio a concludere quando il Signore dona ascolto abbiamo detto che ci mette concretamente nella situazione di poter aprire il cuore in tutte le sue componenti e di poter sperimentare una liberazione una guarigione che parte proprio dall'aver costruito una relazione significativa c'è un brano che si trova ancora negli atti degli apostoli al capitolo 8 voglio leggervelo perché non è molto lungo ma capirete perché ho letto questo brano e perché vorrei concludere questa mia riflessione con questo brano un angelo del Signore parlò a Filippo e disse alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza essa è deserta allora attenzione quando noi leggiamo nella Bibbia un angelo del Signore e diciamo ma in vita mia angeli non ne ho incontrati quindi sto al sicuro ma guardate che l'angelo del Signore può essere uno che ti dice guarda devi andare lì vai a fare il tuo ministero in quel posto oppure aiutami in questa missione oppure organizziamo qualcosa cioè è un'occasione che il Signore ti manda l'angelo è un messaggio che passa attraverso una cosa concreta che sta succedendo dentro la tua vita ecco Filippo viene coinvolto nella dinamica in cui il Signore lo spinge a fare qualcosa alzati va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza essa è deserta e lì si alzò e si mise in cammino quando ecco un etiope e un uco funzionario di Candace regina di Etiopia amministratore di tutti i suoi tesori che era venuto per il culto a Gerusalemme stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia disse allora lo spirito a Filippo va avanti e accostati a quel carro Filippo corse innanzi e udito che leggeva il profeta Isaia gli disse capisci quello che stai leggendo ed egli rispose e come potrei capire se non ho nessuno che mi guida vedete come ritorna il tema della solitudine e invitò prego di quale persona il profeta dice questo di se stesso o di qualcun altro e Filippo prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura annunciò a lui Gesù proseguendo lungo la strada giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse ecco qui c'è dell'acqua che cosa impedisce che io sia battezzato fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua Filippo e l'eunuco ed egli lo battezzò e quando risalirono dall'acqua lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e pieno di gioia proseguiva la sua strada Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea allora guardate questo è un brano bellissimo per un motivo molto semplice abbiamo un uomo con una storia con una caratteristica è un unuco che lavora per un popolo pagano amministra molti beni eccetera si trova in una postura riflessiva da solo sta leggendo le scritture no? ma non ci capisce niente che è un po' come dire che da soli non capiamo niente della vita che cosa fa il Signore? il Signore per salvarci la vita ci manda sempre qualcuno quando noi leggiamo che non si va al padre se non per mezzo del figlio significa che quel per mezzo del figlio è sempre qualcuno è la Chiesa amici la Chiesa è ciò che il Signore si è inventato per salvare la vita alle persone e in quella relazione questo unuco capisce non soltanto la scrittura ma anche la sua vita fino al punto da chiedere il battesimo e si fa battezzare ma guardate quanto è importante questo ascolto questo incontro che gli cambia la vita dopo che Filippo ha fatto questo cioè lo ha fatto incontrare in maniera reale con Gesù lo Spirito lo toglie non c'è nessuna dipendenza da Filippo perché lo Spirito crea sempre libertà l'unica cosa che ha Filippo di quell'incontro sapete cos'è? la gioia se ne andò pieno di gioia è bello pensare questo abbiamo parlato di ascolto di presenza concreta nella vita delle persone di guarigione del cuore ma l'unica cosa che noi dobbiamo lasciare alle persone non è la dipendenza dalla nostra persona ma è un retrogusto di gioia e di gratitudine nella loro vita quando un cristiano suscita questo quando una missione lascia questo quando un'evangelizzazione lascia questo quando una predicazione lascia questo allora ha compiuto il suo scopo la gratitudine e la gioia sono la prova che abbiamo vissuto effettivamente bene la nostra esperienza di Dio una persona può dire di aver sperimentato la guarigione del cuore quando comincia a provare una intima gratitudine e gioia al di là di quello che sta vivendo dentro la propria vita ecco l'augurio è che me ognuno di voi possa fare l'esperienza di questo ascolto possa non soltanto lasciarsi guarire il cuore ma diventare a sua volta quel Filippo che viene mandato a far questo per tutte le strade del mondo grazie grazie